Dalla mezza maratona di Trieste mi aspetto un buon risultato, spero che sia un trampolino di lancio positivo in vista della maratona di Londra, dalle Olimpiadi da cui punto da quattro anni a questa parte. Dalle Olimpiadi mi aspetto un buon risultato, è una gara che preparo da tanti anni, quindi per me sarà una grossa emozione essere a Londra alle Olimpiadi, spero che non sia solo una partecipazione ma spero di lasciare il segno. Grazie a tutti!